Il big match della 24esima giornata se lo aggiudica la folgore del Fino Curi Pescara, che batte con un netto 3-0 il Castelnuovo Vomano, consolidando così il terzo posto in classifica, confermandosi come una delle squadre in assoluto più costanti e più belle esteticamente da vedere. Il match entra subito nel vivo con le due squadre che si affrontano in maniera aperta e spigliata, con atteggiamenti votati prevalentemente all'attacco. Al settimo la prima occasione per il Castelnuovo, con il tiro di Demin che trova la pronta risposta di Giannini. La folgore dimostra anche cinismo e al primo tentativo passa, nono minuto, contropiede letale dei Biancazzurri che trova la finalizzazione chirurgica di Napoletano, venditti e battuto e il pallone entra in rete. I padroni di casa prontamente reagiscono all'undicesimo, la conclusione di Ludovici viene nuovamente respinta da un attento Giannini. Il match è vibrante, i ritmi sono alti, ma al trentunesimo la folgore trova il raddoppio, ancora una volta azione di contropiede velocissima e Rossi in sacca in rete, gelando tutto il comunale di Castelnuovo-Vomano. I ragazzi di Mister Bonati non si siedono sugli allori e al trentasettesimo arriva il terzo gol. Serie di scambi precisi e veloci tra Napoletano e Dinisio che duettano come due cantanti al Festival di Sanremo, con Dinisio che trafigge venditti per il 3-0 folgore. Il Castelnuovo con orgoglio si ributta l'attacco e al quarantesimo Giannini compie il terzo, ottimo intervento sulla deviazione di Santos da Silva-Allison. Le immagini di Gilberto Marinozzi ci portano nel secondo tempo che si apre con l'espulsione del tecnico Bonati al settimo per proteste nei confronti del direttore di gara. La folgore però continua a macinare gioco e al sedicesimo il tiro di Napoletano viene deviato in angolo da venditti. Il Castelnuovo prova a reagire, al diciottesimo è Santos da Silva-Allison a devorarsi il gol a pochi passi dalla porta, non riuscendo ad approfittare di un disimpegno sbagliato da parte degli ospiti. Al trentacinquesimo è sempre Santos da Silva-Allison ad impegnare Giannini che respinge la conclusione dell'attaccante neroverde con un'uscita spettacolare di pugno. Quarantesimo minuto Castelnuovo in dieci per il rosso a quarta. Il finale è tutto delle chimere neroverdi con due occasioni in pieno recupero, al quarantasettesimo con il tiro di D'Antonio respinto da Giannini e al quarantottesimo con la traversa piena centrata da Lugo Martinez con una conclusione spettacolare da distanza notevole. Per la folgore è la quattordicesima vittoria stagionale con il terzo attacco e la terza difesa del campionato che vengono ampiamente confermate. Per il Castelnuovo un passo falso casalingo forse inaspettato. Bisognerà ritrovare subito il giusto smalto per l'insidiosa trasferta contro il Casalbordino.